Il GPT Store è finalmente arrivato, a due mesi dall'annuncio durante il Dev Day, ora chiunque abbia un account plus o enterprise può accedere allo store direttamente dall'interfaccia di già GPT. E questa è un'ottima notizia perché non siamo più costretti a ricercare i GPT su aggregatori, blog o altre fonti, ma possiamo ricercarli e ovviamente utilizzarli direttamente dall'interfaccia di GPT. Ma questa non è l'unica novità in casa OpenAI, infatti ci sono altri importanti aggiornamenti di cui parleremo in questo video, dove per l'occasione del lancio dello store ho raccolto 10 GPT molto interessanti da utilizzare subito. Ma prima di iniziare il video, like, iscrivetevi al canale per non perdermi altri contenuti simili e seguitemi anche sul LinkedIn e Instagram dove pubblico regolarmente altri contenuti sul mondo AI. Eccoci qui, Introducing the GPT Store, siamo sul blog di OpenAI, questo è l'articolo di lancio dello store e abbiamo qui tutte le informazioni chiave su questo lancio. Abbiamo, come già sapevamo, la possibilità di poter monetizzare questi GPT, qui la brutta notizia è che all'inizio la possibilità di accedere al programma di revenue sharing sarà disponibile solamente per il mercato degli Stati Uniti. Quindi come al solito partiamo un po' a ritardo, quindi per l'Italia e per gli altri paesi ci sarà la possibilità di monetizzare in futuro. Ma per accedere comunque al programma di revenue sharing dovremo attivare il nostro profilo builder, quindi andarlo ad abilitare all'interno di settings, builder profile e qui poi possiamo scegliere se mostrare il nostro nome o comunque il nostro sito. E qui vediamo che i GPT sono uno strumento molto utile anche per farsi pubblicità, per linkare il proprio sito, i propri servizi o comunque farsi conoscere. Quindi se abbiamo dei GPT molto popolari possiamo comunque utilizzarli come una vera e propria vetrina. Come vediamo qui i builders potranno guadagnare appunto in base all'utilizzo dei GPT, quindi i GPT più utilizzati, i più popolari potranno accedere a quel programma di revenue sharing. E vediamo team and enterprise customers can manage GPTs. Vediamo che quindi chiunque abbia un account team, adesso vediamo di cosa si tratta, e enterprise potrà gestire i propri GPT, avrà una vera e propria area di lavoro dedicata. Team è l'altra grande novità che citavo all'inizio del video, vediamo sempre dal blog OpenAI Introducing CiaGPT Team. Si tratta di un nuovo piano di abbonamento, una sorta di via di mezzo fra Plus ed Enterprise, che ci garantisce l'accesso a delle funzionalità aggiuntive, è una versione potenziata di CiaGPT. Infatti abbiamo una finestra token quadruplicata da 8 a 32.000 token, quindi possibilità di inserire input più lunghi e ottenere output molto più lunghi. Abbiamo tutte le capacità che abbiamo già su Plus ovviamente, i nostri dati di business o personali non verranno comunque utilizzati per addestrare i modelli, questo è un po' come avviene su Enterprise. Avremo come appena detto un spazio di lavoro condiviso e sicuro dove poter amministrare i nostri GPT e costruire i nostri GPT, e anche un accesso privilegiato e anticipato a tutte le novità che arriveranno su CiaGPT. Il costo del piano team è di 25 dollari mensili per account, minimo due account, infatti è pensato per team, a minimo due persone possono sottoscrivere questo abbonamento, quindi 5 dollari in più rispetto al Plus al mese, ma dovremo pagare l'importo in toto, quindi non è un pagamento mensile, ma dovremo pagare upfront. Quindi se siamo in due parliamo di 600 dollari annuali per il piano appunto team. Piano team che ci offre anche la possibilità di utilizzare un GPT che ricorda, cosa significa? Un'altra novità introdotta da OpenAI è proprio questa nuova versione dei GPT che ricordano le conversazioni precedenti per migliorare quelle future, quindi avremo dei GPT che miglioreranno nel tempo e ci offriranno un'esperienza sempre più personale e personalizzata. A proposito di GPT, ho appena aggiornato l'ebook con le instructions per costruire i vostri GPT personalizzati, però agginti diversi li ho anche un po' migliorati. Trovate il link per scaricare gratuitamente l'ebook in descrizione, ve lo lascio qui sotto. Inbook con le instructions per 20 GPT personalizzati, potete prendere ciascun template, modificarlo a vostro piacimento in base ai vostri bisogni, link qui sotto. Ma andiamo ora a dare un'occhiata allo store, qui sulla sinistra abbiamo Explore GPTs, se clicchiamo accediamo appunto allo store e vediamo come è strutturato. Abbiamo una barra di ricerca dove poter inserire le nostre parole chiave, vediamo scrollando abbiamo la sezione featured che sono i GPT in primo piano come dicevamo prima. Al momento abbiamo All Trails, Consensus, Books e Code Tutor, fra un po' vedremo alcuni di questi. Continuando a scendere abbiamo i GPT Trending, quindi quelli più popolari al momento, più utilizzati in questo momento, quelli creati e realizzati appunto da già GPT. Qui abbiamo i GPT che sfruttano da lì e poi scendendo vediamo GPT per la scrittura, per la produttività, per la ricerca, per la programmazione, educazione, lifestyle. Abbiamo diverse categorie, facciamo a navigare per bene, sicuramente è molto utile la categorizzazione di questi GPT, ma al momento per ogni categoria possiamo vederne solo 12. Per cercarne altri dobbiamo sfruttare la barra di ricerca, quindi qui possiamo inserire le nostre keyword e man mano che inseriamo le nostre parole chiave ci verranno suggeriti dei GPT e vediamo possiamo anche visualizzare il numero di utilizzi, quindi da supporre che maggiore il numero di questi utilizzi, migliore o comunque più credibile e affidabile sarà quel GPT. Ma facciamo ora questa carrellata di 10 GPT molto interessanti che vi consiglio di utilizzare perché vi fanno un po' capire quali sono le potenzialità di questi GPT Custom. Il primo GPT di cui voglio parlarvi è Consensus, lo vediamo si trova all'interno della sezione trending sullo store, quindi è uno dei GPT più popolari e c'è una ragione, si tratta infatti di un assistente potentissimo per la ricerca e lo studio. Sfrutta un database da 200 milioni di articoli scientifici su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, quindi è fantastico per esempio per studiare, ricercare ma anche per generare dei contenuti particolari, dei contenuti tecnici scientifici. Io qui gli avevo fatto generare un eventuale articolo per un mio blog di pesca, articolo sul pesce dentice, volevo vedere come se la cavava confrontandolo con il GPT classico, un GPT dedicato alla scrittura. E vediamo che le informazioni contenute all'interno dell'articolo sono informazioni scientifiche, tecniche, molto approfondite, molto dettagliate. E vediamo abbiamo anche un riferimento, quindi possiamo poi visualizzare qual è il contenuto, qual è l'articolo scientifico da cui lui ha pescato quell'informazione. Io qui gli ho fatto generare un contenuto, ma possiamo semplicemente anche cercare impatto dell'AI nel digital marketing, ricerca a caso. Vediamo che lui sfrutta delle actions, quindi ci sono delle API che lui sfrutta per andare a pescare all'interno del database di consensus. E vediamo, ci restituisce il nostro output con i vari riferimenti. Allora ho provato a chiedergli se mi fornisce degli articoli scritti dall'MIT in Boston, mi dice che non ha trovato articoli relativi all'AI nel marketing provenienti da quell'università. Allora gli ho chiesto di fornirmene di generici sull'AI provenienti dall'MIT e vediamo, qui mi dà tutti i riferimenti di articoli sull'intelligenza artificiale scritti all'MIT di Boston. Quindi possiamo anche ricercare in base all'istituto, in base al ricercatore, in base al tema, all'argomento, possiamo veramente fare di tutto. Quindi consensus vi consiglio, provatelo. Io ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto. Il secondo GPT è un po' più di nicchia, molto utile, veramente ben fatto e mi permette anche di mostrarvi come funziona la barra di ricerca dello store. Avevo infatti bisogno di alcuni consigli per delle eventuali campagne su Facebook e Instagram e quindi ho cercato qui sulla barra MetaAdv. E mi è saltato all'occhio questo Your MetaAds Strategist con 400 utilizzatori, quindi non male. Non si trova all'interno delle varie sezioni, ma come ho detto, all'interno delle varie sezioni abbiamo solamente 12 GPT. Per cercare qualcosa di specifico dobbiamo utilizzare e sfruttare la barra di ricerca. Quindi man mano che inseriamo le parole chiave, vediamo, compaiono diversi GPT e sono ordinati per utilizzo e popolarità. Your MetaAds Strategist con 400 utilizzatori, realizzato da Disruptives.it. Quindi si tratta anche di un builder italiano. Come suggerisce il nome, Your MetaAds Strategist ci assiste in tutte le fasi di costruzione di una campagna ADV. Dalla pianificazione all'ottimizzazione del budget, anche al miglioramento, alla generazione delle creatività e i copy, eccetera, eccetera. Qui per esempio avevo preso una creatività a caso da Instagram sull'evento AI Week e gli ho chiesto di darmi dei consigli su come migliorare la creatività. Quindi abbiamo tutti i vari consigli, scende anche piuttosto nel dettaglio, vediamo, un output molto lungo e poi gli ho chiesto sulla base di questa analisi dei suoi consigli di generarmi una creatività alternativa. Vediamo, qui l'ho trovata un po' caotica e gli ho chiesto di rendermela un po' più semplice, proprio perché fra i consigli che mi aveva suggerito c'era quello di essere minimalisti in un certo senso. E vediamo, mi fornisce una creatività più semplice. Ma io poi qui ho continuato l'interazione e gli ho chiesto di fornirmi i vari step per strutturare una campagna per promuovere appunto quell'evento. Ricordo, annuncio preso a caso da Instagram. E sono poi arrivato a fargli generare dei copy per le varie fasi di consapevolezza dell'audience e creare una tabella, una sorta di roadmap con i vari copy, le varie fasi della campagna e anche delle informazioni sull'eventuale campagna di retargeting. Quindi sono partito da una creatività e in poco tempo sono arrivato a qualcosa di molto più strutturato, veramente in un quarto d'ora. Realizzato molto molto bene, sembrerebbe italianissimo, quindi vi consiglio di dargli un'occhiava se avete appunto bisogno di avviare delle campagne sulle piattaforme meta. Quindi parliamo di Facebook, Instagram e WhatsApp. Con il terzo GPT ritorniamo nella sezione featured. Voglio parlarvi di All Trails, io sono appassionato di camminate nella natura, trekking, escursioni e con All Trails noi possiamo ricercare percorsi non solo per trekking, anche per corsa, quindi chi è appassionato di running o di mountain bike, bicicletta, noi possiamo ricercare dei percorsi in base alle nostre esigenze. Quindi qui per esempio gli ho chiesto tre sentieri per trekking con difficoltà media, quindi vediamo lui sfrutta una action, gli diamo il permesso, comunica appunto con All Trails che è un sito dedicato alla ricerca appunto di percorsi di questo tipo. E vediamo ci vengono restituite tutte le informazioni necessarie con tanto di foto dello spot, insomma del percorso, abbiamo la location, la descrizione dell'itinerario, l'altitudine, la difficoltà e anche la durata stimata. Quindi vediamo gli ho chiesto se ci sono dei percorsi adatti alle mountain bike, diamo il permesso all'action e vediamo inizia a fornirci degli itinerari adatti alla mountain bike a Gran Canaria. Utilissimo, io lo sto già utilizzando perché dovevo organizzare un po' di escursioni e lo trovo veramente ben fatto. Ovviamente possiamo poi cliccare sul link e accedere al SIL dove abbiamo tutte le informazioni dettagliate, quindi abbiamo poi anche una mappa e possiamo poi studiarci un po' la situazione. Del quarto GPT avevo parlato in un vecchio video sui plugin, infatti molti di questi nuovi GPT altro non sono che i vecchi plugin che immagino pian piano andranno a scomparire da già GPT. Al momento sono ancora disponibili, possiamo selezionarli qui in alto a sinistra, ma diciamo che molti di questi si sono trasformati appunto in GPT. Quello di cui voglio parlarvi ora si chiama Diagrams Show Me. Diagrams Show Me ci permette di creare mappe concettuali e flowchart direttamente all'interno di GPT, quindi possiamo schematizzare e sintetizzare dei contenuti con blocchi e frecce o semplicemente creare delle visualizzazioni chiare per dei processi. Quindi torniamo sempre al tema della campagna advertising su Facebook e gli ho chiesto per esempio di fornirmi tutti gli step per avviare una campagna ADV su Facebook appunto. Quindi ci vengono fornite un po' di informazioni, ci viene richiesta appunto l'attivazione delle action e vediamo qui abbiamo una vera e propria mappa in ordine cronologico di tutti gli step che dobbiamo intraprendere. Devo dire è fatta veramente molto bene e vediamo qui per esempio partiamo dall'accesso a Facebook alla creazione di una pagina fino ad arrivare appunto alla creazione di una campagna, all'impostazione del budget. Poi ovviamente possiamo andarci a concentrare più su questa sezione e chiedergli di andare più nello specifico sull'ultima parte e creare una nuova mindmaps. Possiamo quindi poi strutturarla in maniera sempre più complessa. Gli avevo anche chiesto di fornirmi tutti gli step per avviare una startup, qui vediamo molto semplice un diagramma blocchi sequenziale, gli ho chiesto di aggiungere delle subtasks, quindi per ciascun blocco aggiungere delle azioni per completare quel blocco e vediamo abbiamo una mindmap sempre più strutturata, molto semplice da digerire. Appunto anche dal punto di vista grafico. Altro GPT trending, Books. Books è il nostro assistente per ricercare nuove letture, nuovi libri. Sono appassionato di lettura e spesso mi trovo un po' come davanti a Netflix con tantissima scelta e non riesco mai a scegliere qualcosa che poi mi piaccia realmente. Quindi mi trovo lì giorni e giorni a pensare cosa posso leggere, fare ricerca e un GPT come Books è veramente una salvata. Quindi per esempio gli ho detto che ho appena finito l'arte e la vittoria, la biografia del fondatore della Nike, da alcune settimane e sto cercando un qualcosa di correlato, un contenuto simile fra virgolette. E vediamo mi inizia a fornire un po' di consigli, quindi abbiamo la biografia di Steve Jobs, abbiamo Show Dog e Memoir from the Creator of Nike, quindi un altro libro sempre sul tema Nike. Abbiamo la biografia di Elon Musk, un libro su Jeff Bezos, quindi ci vengono forniti dei consigli su un filone letterario biografico, business fra virgolette. E lo fa in maniera molto molto precisa, molto dettagliata. Ovviamente possiamo usarlo un po' a nostro piacimento, sia comunicandogli quali sono i nostri gusti, cosa vorremmo leggere o semplicemente chiedendogli dei consigli. Quindi gli ho chiesto, non so, di consigliarmi un libro comico, quindi viene consigliato un libro, quindi abbiamo un po' di informazioni sul libro. Quindi molto molto utile se siamo indecisi sulla nostra prossima lettura. A questo GPT risulta molto utile anche se stiamo seguendo un piano studi, ci stiamo formando su un determinato argomento, gli possiamo chiedere quali sono le letture must, quelle da non perdere assolutamente. Il prossimo GPT sfrutta invece le potenzialità di Dalit 3. Questo GPT funziona in maniera molto semplice, ci basta infatti caricare una foto, un'immagine che abbiamo scattato noi o che abbiamo generato per esempio con le AI e Superdescribe ci genera un'alternativa simile a quell'immagine e ci fornisce anche il prompt che ho utilizzato, quindi è molto utile per ricavare dei prompt, per generare delle immagini simili a quelle da noi scattate. Io l'ho trovato molto carino proprio per la sua semplicità. Entriamo, gli carichiamo l'immagine, lui ci fornisce un'alternativa e il prompt. Io qui per esempio gli ho caricato l'immagine di questa formica e vediamo, mi ha creato questa alternativa, vediamo questo prompt, poi ovviamente possiamo andarlo a modificare e chiedergli delle varianti. Quindi noi partiamo dalla base, che è la nostra immagine caricata e poi da lì possiamo andare a lavorare. Quest'altro GPT ci consente invece di creare e generare un video direttamente dall'interfaccia di CiaGPT. Parliamo del GPT di InVideoAI, InVideoAI che è stato anche oggetto di un mio video, andatevelo a recuperare se ve lo siete perso vi lascio tutti i riferimenti, ed è un tool di text to video veramente molto interessante rispetto ai vari PICA o Runway Gen 2. InVideoAI è sì un modello text to video, ma il video generato non è un video generato dall'AI, ma è un video stock, quindi un video reale che lui pesca da piattaforme come per esempio iStock. Quindi qui gli ho chiesto di generarmi un video sull'impatto dell'AI nel digital marketing e lui veramente in 30 secondi mi ha generato un video. Clicco su questo link, accedo ad InVideo e posso visualizzare. Vediamo, abbiamo un voice over, delle immagini pescate come dicevamo dalla piattaforma iStock, e il video è comunque ben fatto, ha una qualità secondo me elevata per le poche informazioni che gli abbiamo poi dato. Le immagini che scorrono i B-roll sono comunque rilevanti e anche il voice over è molto naturale. Comunque è di buona qualità. Io ho provato anche il GPT di Need, che più o meno fa le stesse cose, genera un video partendo da un prompt e dice a GPT, ma il risultato non è lontanamente paragonabile alla qualità di InVideo. Poi ovviamente se vogliamo scaricare questo video e vogliamo anche eliminare il watermark dovremo sottoscrivere un abbonamento. Il prossimo GPT è invece a tema ludico. Si tratta di un gioco. Infatti le potenzialità del modello GPT 4 possono essere sfruttate anche per divertimento, per creare giochi immersivi ed interattivi. E Deep Game fa proprio questo. Lo troviamo qui nella sezione Lifestyle. Eccoci qui, Deep Game, play any story as a character. You decide what to do next. Quindi Deep Game ci permette di impersonare un qualsiasi personaggio all'interno di una storia sempre diversa e noi possiamo decidere cosa fare e lui in base alle nostre risposte, alle nostre azioni, cambierà in corso la storia. Quindi qui vediamo, avevo avviato un new game seguendo uno dei prompt suggeriti e mi aveva avviato una sorta di game fantasy al stile Dungeons & Dragons, cui impersonavo una sorta di cavaliere in un mondo medievale fantasy. Quindi vediamo, qui mi trovo alle porte del villaggio, gli dico che voglio entrare nel villaggio a cavallo. Qui tutte le persone mi guardano incuriosite. Allora qui decido di sfoderare la spada e suonare il corno da guerra un po' alla signora degli anelli. Vediamo le persone fuggono spaventate. Quindi qui abbiamo la possibilità di creare il nostro gioco, ma possiamo anche appunto creare un plot custom, quindi possiamo scegliere noi la trama del gioco, oppure possiamo avviare un gioco stile Cluedo. Vediamo poi per ogni step del gioco ci viene generata con dargli un'immagine, appunto che ci va a aumentare questo senso di immersività. Molto interessante, soprattutto se lo pensiamo non tanto in chiave chatbot, ma se lo pensiamo applicato ad un videogioco reale. Quindi immaginiamo l'evoluzione dei videogiochi. Quando avremo quelle conversazioni all'interno del gameplay, non saranno più conversazioni standard. Stiamo andando nella direzione in cui ciascuna sessione di gioco vi avrò una conversazione con il mostro finale rispetto a quella che avrete voi. Ci stiamo sempre più avvicinando a questa realtà e questo GPT un po' ci fa assaggiare quali saranno poi i videogiochi del futuro. Nono e penultimo GPT di cui voglio parlarvi è un GPT dedicato alla scrittura e parliamo di All Around Writer Professional Version. Ed è un assistente alla scrittura di qualsiasi tipologia di contenuto. Per capirne le potenzialità io le sto ancora esplorando, sto ancora utilizzandolo in maniera sperimentale, però devo dire che è molto interessante. Se gli chiediamo cosa sai fare, what can you do, vediamo che è un GPT specializzato nella redazione di paper scientifici, romanzi, articoli e anche nel copywriting. Poi vediamo qui sotto ci spiega un po' come procede quando deve elaborare il suo output. Quindi lui per prima cosa provvederà a un outline, poi inizierà ad eseguire, a generare il nostro output step by step, cercando comunque di mantenere un'interazione. Soprattutto vediamo se il contenuto è lungo, comunque stiamo parlando di un romanzo, non è parte che inizia a scrivere romanzo, ma ci sarà un'interazione con noi botta e risposta. Qui vediamo, gli ho provato a far generare un paper sui large language models e vediamo proprio come ci specificava nella sua risposta di prima. Parte prima con un outline, quindi vediamo titolo, abstract, introduction, methodology, direi perfetta come struttura. E poi lui partirà a generare sezione per sezione, continuando appunto ad interagire con noi, il paper scientifico. Ma lo possiamo utilizzare per il nostro blog, per scrivere i nostri racconti o comunque come assistente per migliorare i nostri testi. Chiudiamo ora con un GPT leggero, un po' stile books che abbiamo visto poco fa, ed è il GPT chiamato What Should I Watch? E questo è un assistente utilissimo durante quelle serate in cui passiamo da Netflix a Prime, a Paramount, a Disney e non riusciamo a trovare qualcosa da vedere quella sera. Quindi qui possiamo chiedergli diverse informazioni, cosa vedere su Netflix. Qui per esempio gli chiedo 5 documentari naturalistici su Netflix. Vediamo, lui comunque naviga, utilizza la funzione Browse with Bing e quindi mi fornisce delle informazioni comunque aggiornate relative al catalogo attuale. Vediamo, mi consiglia alcuni documentari. Notte sulla Terra, abbiamo gli riferimenti da dove lui ha pescato questa informazione, comunque tramite Browse with Bing. Racconti di luce, il nostro pianeta anche. Quindi qui provo a chiedergli invece su Prime Video. E vediamo, lui sta cercando dei documentari naturalistici su Prime Video. Quindi qui possiamo veramente spaziare. Secondo me è molto molto utile, pratico, concreto. Quindi il GPT Store secondo me è grande aggiunta, migliorerà sempre più nel tempo. Abbiamo visto al momento, tra virgolette, un po' limitato almeno dal punto di vista del GPT che ci offre per categoria. Ma possiamo sfruttare la barra di ricerca e cercare comunque i chatbot che ci possono essere più utili per il nostro lavoro o la nostra quotidianità. Abbiamo visto quindi sia chatbot un po' più concreti, un po' più pratici da utilizzare nel lavoro, ma anche un po' più leggeri. Però comunque utili come per esempio quello per suggerirci dei libri o per suggerirci cosa guardare su Netflix. Fatemi sapere qui sotto se avete provato dei GPT che non ho nominato e che meritano comunque attenzione, scrivetemelo qui sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!